Buongiorno. Oh, finalmente una ragazza che viene da Bassano del Grappa, no? Non sono di Bassano del Grappa, sono di Bassano solo di un avvocato salernitano. Scusi? Sì? Lei si chiama Bassano? No, mi chiamo Giulia, non Bassano. Bassano è soltanto il mio cognome. Appunto, quindi lei si chiama Bassano. Sì, sì, Bassano, Giulia Bassano. Giulia Bassano. Però, pur essendo Bassano, non è di Bassano? Senti, sono di un avvocato che il cognome di suo padre è Bassano. Ma anche il cognome di suo nonno? Sì, sì. Eh, perfetto. È favorevole al divorzio? Non pro, no. A me non mi piace il divorzio che due persone si lascino e poi devono stare da sole. Infatti questo è successo a mio zio con... Aspetti, no, scusi, scusi, aspetta che prendo un appunto. Suo zio, poi? Mio zio Franco. Franco, poi? Con una sua fidanzia, diciamo sposata di nome Eva, però siccome il zio Franco era molto agitato e zia Eva seria, si sono lasciati ed è per questo che oggi viaggiano separatamente. Ho capito, e si salutano quando si vedono? Grazie a tutti.